Noi stavamo invece guardando le novità manga che usciranno a novembre. La nave di Teseo volume 1 di Toshia Higashimoto, 10 volumi serie completa a 7,50€, nella vita di Shintamura sembra stare per germogliare finalmente il primo barlume di felicità. 28 anni fa suo padre è stato responsabile di un avvelenamento di massa che uccise più di 20 bambini di una scuola elementare e da allora Shin è cresciuto con addosso lo stigma di essere il figlio di un criminale. Ma ora la vergogna e il disprezzo che prova verso la sua figura paterna stanno per essere lavati via dal fatto che egli stesso sta per diventare genitore. Una tragedia inaspettata scaraventa però di nuovo Shin nel barato della disperazione e lo spinge a tornare tra le nebbie dell'Hokkaido, là dove tutto ebbe inizio, per affrontare il suo passato e fare luce, una volta per tutte, sulle colpe della sua famiglia, da molto più vicino di quanto non avrebbe mai immaginato. Sembra veramente super interessante questo qui? E infatti mi ricordo che quando lo annunciarono ero molto molto contento. Poi 10 volumi, non dura neanche troppo, assolutamente perfetto. Eccoci qua, le novità Panini Comics, Planet Manga, un sandwich a Ginza di Jiro Taniguchi, disegnato da Jiro Taniguchi su storia di Yoko Hiramatsu, 272 pagine, 19,90€. Yoko Hiramatsu ci guida in un'immersione totale nel gusto e in un affascinante viaggio attraverso il Giappone. Grazie alle illustrazioni e alle tavole del maestro Jiro Taniguchi, addentriamoci fra ristoranti e locali tipici che hanno fatto la storia della cucina nipponica. Questo non ho capito bene se è un fumetto o se è semplicemente un libro illustrato, secondo me, è più la seconda. Quindi capiamo un attimino quando esce. Non mi interessa moltissimo in generale, perché comunque i manga sul cibo non credo che siano proprio il mio forte. Poi altra novità, Aragane no Ko, Diamond in the Rough, volume 1, di Nao Sasaki, 5 ore e 20, 192 pagine. Un ragazzino che vive in un villaggio sotterraneo e che non ha mai visto il cielo. Un uomo bizzarro che gira per il mondo e che si sostiene grazie alla conoscenza della magia delle pietre. Al centro di ogni attività umana, ecco come inizia un percorso comune. Ed ecco anche come inizia il più classico dei battle manga abbastanza insulsi, secondo me. E poi per la felicità di Sommabu inizierà anche Rooster Fighter, che a me interessa zero totalmente, di Siu Sakura Tani, 7 euro per 192 pagine. Nell'intero Giappone appaiono inaspettatamente i misteriosi bestioni, belve demoniache che mettono a ferro e fuoco la città. Infatti hanno fatto, diciamo, questa battutina con bestioni, bestioni, Oni, perché gli Oni in Giappone sono appunto i demoni. Fra la gente che fugge in ogni direzione si staglia una figura pronta ad affrontare il problema. Keiji cresta superba. Ecco, penso che sia uno dei manga che meno mi attirano nella storia del manga, veramente. E questa è una novità tra quelle che mi interessano di più, ovvero la professoressa Mente, che uscirà anche in cofanetto, di Akane Torikai. A 48 euro il cofanetto, oppure i volumi singoli verranno 12 euro per 392 pagine con sovracoperta. Lei è un'autrice super, super interessante, tra la new wave delle mangaka. Sto leggendo anche in questo periodo il suo diario, quindi una sorta di autobiografia delle sue giornate, anche passate con quello che è il marito, quindi Inyo Asano, uno dei mangaka più interessanti, anche lui, contemporanei. Akane Torikai affronta un tema scottante in una storia che pone al centro la violenza sessuale e l'abuso. Un dramma che è un atto coraggioso di denuncia e un invito alle donne a trovare la propria forza. Quindi anche molto 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 importanti come temi, assolutamente, e credo che sia da leggere un pochino per tutti. Prima novità di novembre per Star Comics è Finché morte non ci separi, di Taro Nogizaka, già autore della Torre Fantasma, se non ricordo male, 6,50 euro per 208 pagine. Il trentenne Harata Natsume lavora nei servizi sociali per l'infanzia, ed è un singolo incallito e assolutamente allergico anche solo alla parola matrimonio. Un giorno Takuto, uno dei ragazzi da lui seguiti, gli fa una particolare richiesta. Vuole che vada a incontrare al posto suo la persona condannata a morte che ha ucciso il padre. Il nome della persona in questione è Shinju Shinagawa. Intravedendo il pericolo della fascinazione del male, e volendo tenere il ragazzino a distanza, Arata decide di andare al centro di detenzione di Tokyo per far visita al cellular killer 21enne, noto anche con l'inquietante soprannome di Shinagawa Pierrot. Salvo poi scoprire che... Un thriller psicologico originale, appassionante e decisamente fuori dagli schemi, è firmato da maestro Taro Nogizaka. Questo devo dire che sembra abbastanza interessante, infatti lo proverò sicuramente. La Torre Fantasma era molto 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 carino. Credo che Nogizaka sia bravo soprattutto negli intrecci narrativi per quanto riguarda queste storie appunto un po' misteri, gialle, carine, carine. La Bao pubblicherà diverse novità per quanto riguarda il Giappone, tra cui Haomanju volume 1 di Isai Waoka, 8,90€ per 208 pagine. Ai margini della città di Yoshigahara cresce indisturbata una grande foresta. È lì che sceglie di vivere Soichi, che ha il dono di poter parlare agli spiriti che dimorano nel bosco. Ogni pianta, ogni roccia è viva, e possiede una storia che merita di essere raccontata e custodita, una favola moderna che ci mette in ascolto di tutto ciò che solo umano non è. Con il suo stile onirico e il suo tratto delicato, Isai Waoka torna a deliziare i suoi sempre più numerosi lettori, grazie anche al lavoro compiuto da Bao per ampliare il catalogo di un'autrice amatissima. L'universo di Waoka ne rispecchia in pieno tutte le contraddizioni, inquietante e onirico, condensa in sé l'innocenza dello sguardo infantile e la critica ecosociale più pungente. Questo mi sembra molto interessante. Contro luce di Yuka Tatami, 192 pagine, 7,90 euro. Sae e Rico sono amiche d'infanzia, ma non potrebbero essere più diverse. Rico è bellissima e popolare, mentre Sae è abituata a vivere sullo sfondo, dietro l'obiettivo della sua macchina fotografica. Quando Sae viene notata per le sue fotografie e comincia a provare un sentimento che va al di là dell'amicizia con un suo compagno, Rico cerca di ostacolare la sua felicità, come per costringerla a rimanere nella sua ombra. Una riflessione su come gli equilibri e i rapporti di forza che ci legano non sempre sono consapevoli, ma possono comunque ferire e plasmare le nostre identità. Un nuovo gioiello targato Aiken, il manga secondo Bao. Questo mi sembra davvero super interessante per la storia e anche per il tipo di disegno molto molto originale, che quasi parodizza anche quello che è lo stile più riconoscibile del manga a livello internazionale, quindi gli occhioni, le divise alla marinaretta e tutto questo. Per Saldapress, novità interessantissima che vedremo già in anteprima a Lucca Comics, ovvero Toy volume 1 di Atsushi Kamijo, 14 euro per 400 pagine. Ho già letto quasi tutto questo volume perché me l'hanno mandato in anteprima per quanto riguarda il PDF. E' davvero super super interessante. Il debutto della collana mangaka di Saldapress dedicata al grande fumetto giapponese è con Toy, l'opera seminale del maestro Atsushi Kamijo, per la prima volta pubblicato in Italia, che ha anticipato il fenomeno dei manga incentrati sulle band musicali come ad esempio Back & Nana. Giappone, anni 80, le case discografiche si sfidano per trovare nuovi talenti da trasformare in teen idol e boy band pensati per dominare le classifiche di vendita. Al grido di distruggiamo la noia, il giovane Toei Fuji si divide invece tra la poca voglia di studiare e il ruolo di cantante nei gasp, una band di grande energia e dalla forte attitudine punk. La sua strada si incrocia spesso con quella di Ani, una fan che stravede per Toei e che lo segue ovunque vada. E' simpaticissimo tra l'altro il loro rapporto. Però quando l'importante case discografica Kama Pro mette gli occhi su di lui, Toei dovrà decidere se restare fedele alla sua band e entrare in un mondo più grande. Tra punk e glamour, la parabola di una star musicale in un manga che ha fatto la storia del genere. Molto molto figo Sam, te lo consiglio assolutamente. Poi devo ancora finire di leggerlo perché l'ho iniziato ieri sera quando sono tornato al concerto di Verdena, quindi ero anche nel mood giusto, ma erano tipo le due di notte, quindi sicuramente ero un po' stanchino. Per 001 edizioni uscirà Onigo Roshi 1 di Masamichi Kawabe, 7,50€ per 232 pagine. Shuhei Sakata è stato accusato dell'omicidio di sua moglie e di sua figlia. Secondo la ricostruzione, dopo gli omicidi avrebbe tentato il suicidio, riducendosi in stato vegetativo. Dopo 15 anni di coma, Shuhei si risveglia miracolosamente, giurando di vendicarsi dei veri colpevoli. Vendetta, possessione demoniaca e omicidi efferati in uno dei manga più emozionanti degli ultimi anni. Questo lo annunciarono in live con me e sembra super 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 figo. La storia mi ha ricordato un pochino quella di Oldboy, con le dovute differenze, ma comunque, secondo me, ci sta. Per essere un manga figo potrebbe diventarlo tranquillamente. E poi sono super curioso anche di Amon Saga, il manga disegnato da Yoshita Kamano, uno degli illustratori più meravigliosi che esistano, ospita il Lucca Comics, su sceneggiatura di Baku Yume Makura, 144 pagine, 12,90€. Nella città di Valis si svolge ogni anno un torneo dove giovani guerrieri in erba devono dimostrare il loro potenziale per unirsi ai raggi dell'esercito. Uno di questi candidati è Amon e le sue motivazioni sono oscure. Dietro alla schiena tiene la spada del padre, lasciata in eredità, simbolo di una promessa fatta. Ma l'incontro con una principessa potrebbe trasformare la sua storia in una lotta di vasta scala. Un classico del manga che rilegge le atmosfere del fantasia eroico, con i personaggi del grande Yoshita Kamano, illustratore della serie Final Fantasy, tra gli altri, che prendono vita sotto la penna di Baku Yume Makura. Se devo essere onesto, io non sono un grandissimo fan del fantasy, però appunto sono curiosissimo di vedere su carta, su un fumetto, perché non ho mai letto un manga di Yoshita Kamano, appunto le sue illustrazioni. L'ho visto solamente nella storia dedicata a Sandman che aveva illustrato, ma per quanto riguarda un manga mai. E poi vedremo Bioman di Yuji Osui e Saburo Yatsude, 192 pagine a 12,90 euro. Il nuovo impero Gear, guidato dallo scienziato pazzo Doctor Man, parte per conquistare la Terra. Il suo esercito di scagnozzi malvagi e pericolosi, tuttavia, non si aspetta di trovarsi davanti ai Bioman, cinque vigilantes determinati a proteggere l'umanità. Dopo la pubblicazione di Densiman, ecco un nuovo volume unico che riporta in voga il genere Super Sentai. Questo potrebbe essere curioso, e ora non so quanta voglia ci sia di leggere i Super Sentai in manga. Finalmente dovrebbe uscire anche per Canicola il libro dei sogni di Yoshiharu Tsuge, 216 pagine a 19 euro. Tsuge riversa le inquietudini della vita nelle metropoli giapponesi e i traumi risolti del tragico bombardamento di Hiroshima, il disagio delle classi meno fortunate e i sogni sfrenati degli artisti più coraggiosi della controcultura lipponica in un affresco del Giappone passato che lascia intravedere anche quello futuro. Yoshiharu Tsuge, come sapete per me, è il migliore autore Gekiga di sempre, quindi sicuramente questa è tra le uscite che attendo maggiormente. Di Init usciranno Snowball Heart 1 di Yuhiro Tsujitsugu, 208 pagine a 12 euro e 90. Tetsuo è un ragazzo timido e introverso, unico amico e il robot Yukio. Entrambi erano diventati dei salvatori, difendendo l'umanità dall'attacco dei kaiju provenienti dallo spazio. 10 anni, immagino, dopo lo scontro decisivo, Tetsuo torna sulla Terra e trova uno spettacolo di poco sconvolgente. Il pianeta è interamente avvolto da neve e ghiacci e si è trasformato in una Snowball Heart. Una nuova saga di fantascienza consigliata da Hideaki Anno, il regista di Neon Genesis Evangelion. Questo potrebbe essere interessante, sicuramente, ma ancora più interessante per me è Darwin Incident volume 1 di Shunume Zawa, 192 pagine, 12 euro e 90. Quando l'organizzazione terrorista Animal Liberation Alliance attacca un laboratorio di biologia, mette in salvo una femmina incinta di scimpanzè. Darà alla luce Charlie, un Human Z, metà umano e metà scimpanzè. Charlie crescerà per 15 anni tra le amorevoli cure di una coppia, isolato e lontano da occhi che possono fargli del male, quando riuscite di andare a scuola come tutti i ragazzi. Opera insignita nel manga Taishu 2022, firmata da Shunume Zawa, già autore di Sotto un Cielo di Collant, che per me è un manga stupendo, che vi ho consigliato più volte. Un'altra novità è The Flower of Melon, 1 di 2 di Etsuko, anche in cofanetto, con i due volumi, altrimenti a 192... no, 192 sarebbe un po' troppo, altrimenti a 12 euro e 90 per 192 pagine. Nakajo lavora in una live house di cui Kiyuchi è un cliente abituale. Kiyuchi si lascia con la sua ragazza e non ha più un posto dove dormire, così Nakajo lo ospita. Kiyuchi però non riesce a prendere sonno se non dorme con qualcuno, mentre Nakajo è gay. E questo ti dice tutto come finirà il manga, praticamente. Ah, ci sono diverse novità per Dinit, anche Azur Lane Queen's Orders Vol. 1 di Azur Lane Staff e Tsukichi, 176 pagine e 12 euro e 90. Quando una shurma resta senza comandante, ne succedono delle belle. Queen Elizabeth è una nave cadetta che fa parte dell'alleanza Azur Lane. Il comandante si è dato alla fuga dopo che lei lo ha trattato come un inserviente. Cosa accadrà fino al suo ritorno? Ecco la versione manga del celebre videogioco con navi da guerra sotto forma di bellissime ragazze. Da questo fumetto la serie animata in onda su Crunchyroll. Questo mi sembra un po' strano, un po' come Girls on the Panzer, quelle robe veramente stranissime solo, solo, solo per il pubblico giapponese, secondo me, praticamente. Sono interessanti però due libri che usciranno sempre per Dinit, quindi Rebuild of Evangelion for Dummy Plugs, You Cannot Understand, di Francesco Tedeschi e Cristiano Brignola. 192 pagine 18 euro. Potevano i coraggiosi e appassionatissimi nerd che hanno spiegato la serie di Neon Genesis Evangelion fermarsi di fronte alla nuova versione cinematografica meglio nota come Rebuild of Evangelion? Assolutamente no. Ecco dunque questo secondo volume che si fa carico del gravoso compito. Trovare il fil rouge della tetralogia che ha sbancato il botteghino in Giappone e che ha fatto parlare di sé anche in Italia. Forse non per i motivi che pensate. Ah ecco questo per me è forse il libro che più attendo in assoluto e anche una delle migliori uscite di quelle appunto che vi sto dicendo. i maestri dello studio Ghibli di Toshio Suzuki, 192 pagine per 18 euro. Tra date di uscita che vengono posticipate collaboratori contesi, budget che lievitano e dichiarazioni di ritiro dalle scene, per lavorare nello studio Ghibli serve molta pazienza. Toshio Suzuki, il produttore che per molti anni ha lavorato accanto a Takahata e a Miyazaki, svela in retroscena della produzione di 19 film, da Nausicaa della Valle del Vento a si alza il vento, passando per i miei vicini Yamada. Contiene una conversazione unica e irripetibile tra Takahata, Miyazaki e Suzuki. Questo per me è oro, questo per me è oro veramente. Due novità anche per Flashbook, ovvero Scarlet Scarlet di Tomoko Yamashita, 6,90 euro. Shiki e Yamato sono due amici d'infanzia che vivono in un villaggio nelle terre dello Yamatai. Yamato ha sempre protetto l'amico dai dispetti degli altri bambini, per via del colore cremisi dei suoi occhi, e ha una personalità solare che fa tanto battere il cuore a Shiki. Quando Yamato gli dichiara la natura del suo profondo affetto, i due vengono bruscamente separati, e Shiki viene scelto dalla regina Emiko come sacrificio umano agli dèi. Trascorrono dieci anni, Yamato non ha mai dimenticato l'amico e non ha mai creduto nella sua morte. Un giorno incontra un uomo identico a Shiki. Ispirandosi alla regina sacerdotessa Emiko, tra storia, letteratura e fantasia, Tomo Serizawa ci propone un racconto antico, suggestivo e ricco di fascino. Questo potrebbe essere anche interessante, onestamente, anche se poi se la buttano tutto sul Boys Love, magari non è così... Non lo so, vedremo. Ah, sono tre in realtà le novità, perché pubblicheranno anche You Are My Son di H&E da Yuki, al costo di 6,90€, Yosuke è un giovane uomo la cui vita non è mai stata generosola con lui, Natsuki è una ragazza che si ritrova a fare da madre a Kenji, figlio della defunta sorella, due persone destinate a incontrarsi, legate da un invisibile filo rosso. Proprio quando Yosuke sembra aver afferrato la felicità tra le mani, un evento lo lascerà solo con Kenji, una storia di vita crudele ma allo stesso tempo intensa e calda. E poi il Love Nest Vol. 1 di Yu Minaduki, sempre 6,90€, Masato Ozumi, che si autodefinisce un rovina coppie, stanco dei rumori molesti provocati dai bambini e dai vicini, decide di cambiare casa. L'amico Naru, proprietario di un gay bar, gli offre l'alettante possibilità di usufruire provvisoriamente di un lussuoso appartamento. Ozumi accetta subito, ma lo attende a una sorpresa, e ci immaginiamo che sorpresa. Quando, armato di entusiasmo e bagagli, si reca un nuovo appartamento, scopre che vi risiede già un'altra persona. L'architetto divorziato e gran fumatore, Asai. Riuscirà Ozumi a sopportare la presenza di un coinquilino così tanto diverso, sia per carattere che per abitudini? Una cosa è certa, è antipatia a prima vista. Spin-off di Change World. In Love Nest il cast si amplia, puntando i riflettori su un'altra affascinante coppia. Questo non mi interessa praticamente zero, devo dire la verità. E questo è quanto per le novità manga da novembre 2022.